L'Atalanta esce con un pareggio dalla Red Bull Arena di Lipsia nella gara di andata dei quarti di Europa League. Una rete per parte ma anche due legni a testa in una partita diventata elettrizzante nel secondo tempo, dopo che la squadra di Gasperini ha chiuso in vantaggio meritatamente i primi 45 minuti grazie a un gol capolavoro di Luis Muriel. L'Atalanta ha avuto la possibilità di raddoppiare prima dell'intervallo con Patalic che ha colpito il palo, come aveva fatto in precedenza Ander Silva nell'unica sbavatura del primo tempo. Nella ripresa è salito in cattedra Musso che ha neutralizzato un calcio di rigore ma ha dovuto capitolare su autogol di Zappacosta. Dopo il ritorno in campo di Zapata, un'occasione per Scalvini e un altro palo colpito da Cupo Miners. Nel finale non danno esito gli assalti della squadra di Gasperini che si salva prima con l'aiuto della traversa e poi con il pallone respinto sulla linea di porta da De Miral. L'Atalanta si giocherà le chance di qualificazione giovedì 14 a Parile al Gavi Stadium dove avrà l'obbligo di vincere. Per tutte le notizie vi rimando a zonamistamagazine.com Grazie a tutti.